Eh, quest'oggi che la mia ti mette in difficoltà Oggi rischi la figuraccia, perché ti farò 14 domande sugli youtuber italiani Ma proprio tutti? Eh, no, non proprio tutti, 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 ma ce ne sono parecchi E ci sono parecchi dettagli che secondo me potresti non ricordarti Probabile Stai rischiando la figuraccia, Ferre Ah, che bella la figuraccia, che farà? Venga, venga, venga Dov'è andando? No, sto seduta qui, sto seduta qui La prima domanda è gentile perché è personale su di me, quindi la puoi... Ferre, non puoi... Non puoi, ormai lo devi fare questo test Ormai lo devi fare, dobbiamo scoprire tutti noi quanto sai di YouTube Italia, caro mia Eh, tantissimo, Stef, tantissimo Allora, mi lega la prima domanda a voce alta, forza Allora, quale youtuber preferisco tra questi tre? Ok Allora, questo dovrebbe essere abbastanza semplice, contando che lo guardi anche abbastanza, direi Favij Ok, 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 ti li ho messi abbastanza semplici perché ti lasciava pochi dubbi, ok? Ok Allora, domanda numero due, eh, devi sempre bruciare tu, vero? Sì, è sempre divertente, la parte più divertente Non mi ricordo neanche cos'è la domanda, vai, leggila perché così me la ricordo anche io Allora, sempre ci sono delle opzioni che ovviamente non mi lasciano capire quale possa essere la domanda Ok Allora, quale youtuber ha raggiunto in meno tempo il bilancio? Ah, ok, 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 me la ho già dimenticato Aspetta Meno male, meno male, meno male, me la sono ricordata Vai, devi fare un po' di ragionamento qua, eh Devi stare attenta Eh, non lo so, sinceramente Cioè, allora, non mi ricordo, di alcuni di questi Ok Mi ricordo più o meno quanto ci hanno messo Ok Però non ricordo, diciamo, tutti nello specifico Allora Se ci hanno messo tanto poco Ovviamente si intende per meno tempo A livello di da quando hanno iniziato quanto ci hanno messo Ok Ah, e allora, contando che sono già due milioni, suppongo in me contro te Esatto Ok, vai pure, vai pure No, non era tipo chi ci è arrivato prima a livello di data, capito? Era proprio in quanto tempo Da quando hanno iniziato Sì, perché altrimenti sono quasi sicuro che fosse stato surreal Altrimenti è la risposta Probabile, probabile Allora Visto che appunto hanno già due milioni Anche questo è semplice, quindi poter rendere a tre non errori Ok Vado E questa fa anche ridere, vai Aspetta, aspetta Ragioniamo un attimino Perché io non avevo notato le Ok Le opzioni Ciccio, che intendi Ciccio Gamer? Certo Ok, l'hai abbreviato così? Sì, sì, perché se non ci stava Ci siamo noi Ok E c'è Gonx Perché c'è Gonx? Gonx sono youtuber Leggi la domanda Leggi la domanda e capirai Forza Questo era un insulto Leggi la domanda Chi è il canale più conosciuto in Italia di Forte? Lo so che sei tentato di mettere Gonx Io lo so che Gonx, sì Ormai sta facendo un botto di views con Forte Quindi, guarda, secondo me ormai supera Ciccio, eh Supera Ciccio Eh sì, dai, su, muoviti Dai, sappiamo tutti che è Ciccio Gamer Ok Ok, perfetto Ora, secondo me, iniziano quelle un po' più difficili Mi stai uccidendo Anche se questo è ancora fattibile, eh Ok? Stai attenta, leggi Aspetta, ho bisogno di un minuto di ridere per ridere ancora di Gonx Perché lo dobbiamo sapere prendere in giro? È il nostro amico, non dovremmo prenderlo in giro Se tu continui, peggiori la situazione Se invece dimentichi in fretta, dura meno No, è impossibile dimenticarsene Vada Allora, fammi vedere un attimino le opzioni, ok Luis, Lion e Eren E l'iproducto, sì Quali di questi youtuber è più giovane? Ok Perché secondo te mi ricordo le tanti Appunto Allora, vabbè, l'età di Lion ovviamente Contanto che ci parliamo tutti i giorni La so, me la ricordo Ok Eren pure Ok Secondo me Luis Perché Luis è molto, molto, molto giovane Quindi Sì, sì Yes, yes, yes È abbastanza semplice Ricordo che ha tipo vent'anni, Luis E comunque È zaccato Mi ha venti Vero? Sì E mi ricordavo di averlo sentito in qualche suo video Non mi ricordo quale, però penso di averlo sentito E oltretutto ho fatto ragionamento Lion e Eren hanno meno di vent'anni Quindi per forti Questa è la sbaglia Questa è la sbaglia Questa è la sbaglia Cosa vuol dire qua? Oh yes Sono iscritti di FabiJ? Sì Quanti iscritti ha FabiJ? Non lo so Cioè so che ha fatto i 4 milioni Ok Però cioè non è che sta a guardare i sui iscritti Dovresti Ogni giorno Dovresti guardare i video Non mi ricordo di preciso neanche quanti iscritti abbiamo noi Ti dico la verità So che siamo vicini ai 500 mila Ma non so quanto Allora Quando uscirà questo video non lo so Perché esce un po' più avanti Però credo che siamo a 478 mila E c'è un post-it lì Sì 478 mila Però vedi che anche tu hai dovuto guardare il post-it Allora Come puoi pretendere che sappia di preciso quelli di FabiJ? Leggi e insultami Vai Quanti anni ha Stefani? Che poi avresti un modo per sapere Ok Però non ti posso dare l'indizio Quindi Allora secondo me 24 Sì che ha 24 anni scusami No Sì No Non li ha ancora compiuti Esatto Però quest'anno fa 24 anni Perché ho pensato Che so anche il suo anno di nascita E quindi facendo il calcolo Li compi a giugno Fere Li compi a giugno E allora ne ha 23 Quasi 24 Quindi era nel mezzo la risposta Stef Era nel mezzo 23 anni a livello ufficiale Mi spiace Hai anche azzeccato il 94 Era la parte difficile Però effettivamente Dovevi giocare di provietà Io non so perché me li ricordo Una volta che leggo Mi ricordo No è incredibile Infatti io non c'è Gli anni di nascita delle persone Io ovviamente ho googlato Cioè non so perché te lo ricordi È una cosa inutile Però non so perché Se io lo vengo a sapere Un po' come per Luis Se lo vengo a sapere Non me lo dimentico Non chiedimi perché Non mi ricordo gli iscritti Ma mi ricordo gli anni di nascita Buona sapersi Vieni qua vieni qua vieni qua Questa ti lascerà qualche dubbio Secondo me Un pochettino Ti lascia lì un po' spiazzata Domanda numero 7 Ok Prenda pure quel bellissimo libro Sono ancora tante le domande Lo so lo so Ti preferisco tra questi tre youtuber Anima, Human Safari e Lion Ok È difficile È difficile Perché ti può venire un dubbio Tra due canali Allora mi viene il dubbio Tra Human Safari e Lion Ok Perché c'è Anima non lo guardi più No Tanto sinceramente Ok allora 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 Il dubbio che lei ha È se sono stato gentile con Lion O se ho messo Human Safari Perché comunque lo guardo abbastanza Però aspetta C'è da dire che lo guardavi tanto In questo periodo L'hai guardato di mano E ti ho visto guardare di più Dei video di Lion Quindi dipende da che periodo ti Eh Devi andare a sentimento cara Devi essere Con i sentimenti Proprio lì che Lion Yes Ah sì Te l'ho detto In questo periodo Lo stavi guardando di più Quindi per forza Doveva essere così Scusami Questa è brutta Non la più pallida idea Ovviamente Anche perché Più o meno ho capito Che siamo sui 400 e qualcosa Beh sì Non ci vuole un genio Vado a sentimento 438 Quanti sono? La verità sta nel mezzo 439 La verità sta sempre nel mezzo Cara mia Ok E al momento Aspetta Sì Ecco Non ero caduta bene Non è brava neanche a bruciare Stavo dicendo che al momento La nostra cara Fere È a tre errori Che sono già tantini Eh sì Non vorrei che Fere arrivi a seditura A cinque errori Eh ma sono difficili Ste ste domande Perché sono Di quella trabocchetto Che ti traggono Sempre in inganno Mi dici che domanda ho fatto Quale di questi youtuber Non ha scritto un libro? Questo è il tranello Capiscimi No aspetta però Aspetta Dì il tuo dubbio Espongo il mio ragionamento Sì La io non ho scritto il libro Perché l'ho anche letto Ce l'abbiamo Esatto Lì dietro nella libreria Quindi sono sicura Che un suo libro esiste Ok Favij è stato il primo Che ha scritto il libro Ti ricordi tipo Quello con lui Con le cuffie In copertina Stepry però c'è da dire Che ha fatto il libro Con tutti i mates Ok Quindi lui da solo Il libro non l'ha scritto E suppongo che sia lui Esatto Volevo intendere Il gioco era proprio quello Che l'ha fatto con i mates Ma non da solo E quindi volevo farti L'ingannino In questo modo qua La prossima E un'altra domanda Che non ricordo Minimamente anche Ah sì 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 Dai questa la puoi riazzecare Fere Questa ce la puoi fare Non è molto difficile Quale di questi youtuber Pubblica più video La settimana Oddio Allora aspetta Sì Allora fammi ragionare Allora Eren so che ne pubblica Due al giorno Ok quindi quattordici Esatto Gabby mi sembra uno al giorno Esatto Più o meno Sì Kendall non lo so Infatti ho messo Kendall Per lasciarti il dubbio Dico Eren Yes Era facile perché te li ho messi Tutti e due da uno al giorno Senza lasciarti i grossi dubbi Ti mettevo uno step E era già più difficile Perché fa Di solito dieci video La settimana Qualcosa così E quindi era un po' più complesso Allora Non ho idea neanche di questa Siamo alla numero Fere Undici Numero undici Quindi ne mancano ancora quattro Vai Quale canale ha il video Con più visualizzazioni Allora Anche qui c'è un bel ragionamento Da fare Ok Allora Stepni ha tanti video Che comunque hanno fatto Tante visualizzazioni Fa vj Però c'è anche da dire Che è quello che c'è da più tempo Esatto Se non ricordo male Quindi tanti dei suoi video Tecnicamente Esatto Possono essere saliti Molto Durante tutti questi anni E anche me contro te Comunque c'è da dire Che già al giorno Fanno tante views Quindi È probabile che pure I loro vecchi Siano saliti molto Ok 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 Hai fatto un ultimo ragionamento Ma quindi Non lo so Sinceramente non ho La più pallida idea Ok Allora beh Stepni te lo elimino io dai giochi No zitto No ma voglio essere gentile Come Favi È invece Ma davvero La canzone dei me contro te Sta a 2 milioni Ma quale? Sopra Non mi ricordo se è princesa O Sì princesa mi sa Ah ok Sta a 17 milioni Mentre occidentali scarma La parodia che aveva fatto Favij Che è il suo video più visto Sta a 15 Però vedi Era davvero davvero Poca la differenza Infatti io pensavo Sono andato a vedere Pensavo che sarebbe stato Favij E invece me contro te Comunque la canzone hanno fatto di più Quindi Quarto errore per Fere Allora Sono triste adesso Era difficile Perché ho detto Dai Favi che c'è da tanti anni Avrà qualche video altissimo No infatti 15 milioni Cioè tantissimo Però Era poco poco di più Domanda numero 12 Cara mia Ok Siamo a 4 errori Quindi ne stai sbagliando Una su 3 di media No siamo di più di errori Secondo me No 4 errori Fere Le sto contando Le sto contando 5 Fere li sto contando Sei a 4 errori Quale canale non ha mai fatto Una propria canzone È proprio Rencaps L'hai notato? Ok È molto importante Due di loro Bene o male hanno una loro canzone Ok Uno di loro Tre invece ha fatto Soltanto parodie Allora Secondo È difficile Questa è cattiva Sono entrata un attimino in tilt Perché ho provato a memorizzare Tutte le canzoni E le parodie Che ho visto Io stavo cercando Tutti i loro nomi Con canzoni Per trovare La risposta giusta No perché io vabbè Ne ho visti tanti di video Però mi ricordo Che tipo i mates Avevano fatto No però forse era sempre Una parodia Cavolo Avevano fatto un video assieme In cui cantavano tutti Ma mi pare che fosse Una parodia dei 20 Ti giuro non la so E spara Una possibilità su 3 Di azzeccare Ce l'hai Allora spiegami Perché non ho ben capito Sono andata a fortuna Tutti e tre hanno fatto Un sacco di canzoni parodia Lion 2 Step in Surreal Le hanno fatto tantissime Ok E quelle sono parodie Quindi prendi una canzone Già esistente Scrivi un altro testo E la canti Ovviamente Nel caso Di Step in Surreal Però hanno fatto Anche una canzone Dedicata a loro Delle altre persone Mi sa che di una lettura Cantata a loro stessi Eccetera eccetera Quindi una propria canzone Che va oltre la parodia Ah ok Lion ha solo delle vere Proprie parodie Ok Ok Questa era difficile Ho avuto una fortuna Infatti in sua chat Eh vabbè per forza Perché mi ricordavo Un po' di più Quelle di Lion Quindi sono andata Sono andata diciamo A sentimento Allora questo è abbastanza easy Secondo me Vai leggi Allora Quali di questi canali Non ho mai fatto Una trasmissione In televisione Ok Allora Secondo me il dubbio Ce lo devi avere tra due Prova a dire Su chi è il dubbio Tra Ciccio e Vegas Esattamente Allora perché comunque Della Sabri No mi ricordo Che ha fatto social face Insieme a tutti gli altri mates Quindi però non mi ricordo No Vegas c'era o non c'era È il dubbio infatti Che ti voglio far venire E se c'era Vegas In social face Allo stesso tempo Se Ciccio è mai andato in tv Secondo me c'era anche Vegas Ed è Ciccio Yes Eh di Ciccio non mi ricordo niente Poi magari Ciccio ha fatto qualcosa Però non credo Quindi nel caso ho sbagliato io Chiedo perdono Ma non credo Nulla che fosse costante Oh neanch'io sinceramente ricordo Magari invitato a qualcosa sì Ma ormai nulla è costante Abbiamo detto comunque Trasmissione Esatto Social face hanno fatto due stagioni Quindi è una vera propria Ultima domanda per te Cara mia E vedo I tre più grossi Quale di questi canali È più follower su Instagram? Noi che non lo usiamo Non c'è come opzione No Ah E questa mette difficoltà E questa mette difficoltà Cara mia Perché andiamo oltre a YouTube Guardatela Guardatela la sua faccia In questo momento Non lo so Non sa cosa fare Allora Me contro te hanno almeno un milione Favij almeno un milione Suppongo anche Stepney Sì sì Tutti over milione Tranquillamente Fere Ok No no Sono tutti oltre un milione Proprio tranquilli tranquilli Quindi chi dei tre Al momento sta sopra gli altri due Me contro te? No No davvero E chi c'è? E te la butto addirittura In modo cattivo Fere Me contro te Sono ultimi Ma davvero? Sì Stepney ha quasi il doppio Di me contro te E Favij Ha un milione in più di Stepney Quindi Favij è quello con più follower Poi Stepney E poi me contro te Dovevi fare un calcolo Basato sul fatto Da chi c'è da più tempo Un po' come gli iscritti di Youtube No però aspetta Aspetta C'è da dire che comunque Instagram è una piattaforma esplosa In questi ultimi anni Quindi secondo me Si ritrovavano proprio alla pari Capito? Ok Vabbè vabbè No era difficile Sicuramente non mi ricordavo Mi ricordavo a grandi linee Ma non di preciso Quindi Ci sta Ci sta Quanti errori ho fatto 14 domande 5 errori Secondo me Te la sei giocata Abbastanza Nel senso Erano domande difficili Non credo che ci sia tanta gente Che sa così tanti dettagli Di tutti questi canali Qui Secondo me C'è da dire che molte Le ho fatte un po' per esclusione Potevi fare un po' meglio Quello senza dubbio Però comunque Te la sei cavata bud puppy Che 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 Che